Si è incardinato il provvedimento rispetto alle nove materie, ovviamente non verranno trattate tutte contemporaneamente con una gradualità, si partirà dalla protezione civile e sarà l'occasione di dimostrare che stiamo parlando di un decentramento amministrativo che migliora la vita dei cittadini. Soddisfatto il presidente Zai all'uscita dall'incontro che ha visto per la prima volta riuniti con il ministro agli affari regionali Calderoli i governatori di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per discutere operativamente di autonomia e delle nove materie su 23 potenzialmente trasferibili fin da subito alle regioni. Per le altre 14 bisognerà attendere la definizione degli ormai famosi LEP, i livelli essenziali di prestazioni. Delle quattro regioni apripista sull'autonomia il Veneto ha chiesto funzioni relative a nove materie, la Lombardia 8, Liguria Piemonte 6. La decisione unanima è stata quella di partire dalle funzioni relative alla protezione civile, materia richiesta da tutte e quattro le regioni. Penso che sarà necessario un ulteriore confronto con i ministeri rispetto alle funzioni perché noi non chiediamo materie ma funzioni delle materie. Quindi non si andranno a creare i 20 ministeri di, ma si chiederanno delle funzioni all'interno dei ministeri, quelle che sono delegabili. Di giorno importante, non solo per le quattro regioni ma per tutto il paese, parla il ministro Calderoli. Così ci si renderà conto, dice, che è un'operazione di buon senso per attribuire alle regioni quello che possono fare meglio dello Stato, lasciando invece allo Stato ciò che è giusto nell'interesse di cittadini, famiglie, imprese e di tutto il paese. Di legge, che finisce per scontentare tutti, dal nord al sud, parla invece il senatore Andrea Martella, segretario veneto del PD, che per l'abrogazione della legge Calderoli sta sostenendo il referendum. Io ho l'impressione che non incontro abbastanza di maniera per dire che si fa qualche passo in avanti, ma in realtà la maggioranza mi pare abbastanza incartata dal punto di vista delle procedure, dal punto di vista delle risorse economiche, che riguardano anche le materie non lette, perché comunque incidono sull'assetto generale, e per quanto riguarda i nodi politici non risolti all'interno delle forze politiche della stessa maggioranza, che hanno visioni diverse.